il voto si intitola così il tappeto allestito nella chiesa del rosario a torre del greco e realizzato dall'artista antonio caso in occasione dei 160 anni dal primo carro dell'immacolata un'altra autentica opera d'arte come il tappeto preghiamo realizzato dal maestro raffaele panarello e allestito nella chiesa di san filippo neri i due tappeti in secatura si potranno visitare fino al prossimo 11 dicembre ai microfoni tv city antonio caso spiega cosa rappresenta la sua opera e come è nata questa passione a 17 anni il primo tappeto in occasione della festa dei quattro altari non manca una eredica speciale dell'artista ai miei genitori e al popolo ischitano abbiamo rappresentato ovviamente l'icona dell'immacolata come si può vedere che accompagna appoggiando le mani sulle spalle del san vincenzo romano poi sul spostandoci al centro vediamo la basilica con il campanile e in ascesa vediamo i portatori con il carro trionfale poi al di sotto un segno distintivo alcune icone abbiamo inserito per quello che è i segni distintivi diciamo di torre del greco quindi il porto salvo abbiamo inserito la ginestra un altro segno distintivo di forza il quale è riuscita a rinascere dopo le ali di ceneri del vesuvio a centro a centro tappeto vediamo questa statua pensante un omaggio che ho voluto dare agli incisori di torre del greco e infatti come si può notare è rivolta verso una conchiglia nella parte sottostante alle ultime tre figure vediamo questa bimba centrale con una lampada illuminata simbolo di luce di cammino per quello che poi sarà il percorso di vita e di fede quindi tutto si rispecchia nel volto di questa di questa anziana donna e in ultimo abbiamo inserito un altro volto di un bimbo con una rosa simbolo di purezza questo è un po quello che è stato il mio tappeto e la mia realizzazione fatto con ovviamente la tecnica di segatura mischiata con il pigmento colorato ho impiegato 22 giorni anche se me ne occorrevano un po di più dico il vero ho fatto un po gli straordinari perché il tappeto misura 5 metri e 20 per 3 metri e 80 quindi una bella lavorazione però è stato soddisfacente diciamo da dove è nata questa passione e se è la prima volta il primo tappeto che realizzi la passione ce l'ho da sempre perché da giovane ho sempre dipinto è fatto è fatto arte diciamo tra virgolette arte sono un autodidatta perché purtroppo non ho continuato gli studi questa passione per il tappeto l'ho presa grazie ai miei maestri dai tempi della scuola mi sono appassionato e l'ho portato avanti più volte sia per la festa dei quattro attari dove mi dedo la possibilità la prima volta a 17 anni e poi nel corso degli anni ne ho fatti altri l'ultimo 10 anni fa sempre per l'immacolata concezione per i 150 anni e ora per il 160esimo anniversario grazie a tutti